Ciao a tutti, sono Moreno del Signore, Vocal Coach e Direttore del Tempio della Voce. Siamo qui oggi per il nostro appuntamento numero 83. Abbiamo fatto un bel viaggio insieme nell'arco di questi anni e oggi parleremo dei quattro piani della vocalità. Perché scelgo questo numero? Perché mi piace immaginare un disegno. Immaginate di disegnare una linea verticale ed una linea orizzontale, se ne determinano quattro piani. Cosa metteremo all'interno di questi quattro piani? Perché la voce, che è espressione idealmente possibile e assolutamente desiderata come migliore espressione dell'uno, perché in realtà deve partire da quattro punti di osservazione diversi? Perché sono piani della nostra esistenza e non può essere sconnessa la voce da questi piani esistenziali. Pertanto metterei una lettera, una lettera dell'alfabeto in ognuno di questi piani, no? E partendo in alto a sinistra metterei una M. Una M che sta per mentale. Mi sposto a destra e metterò una F, che sarà il piano fisico. Mi sposto sotto il piano fisico, quasi in maniera soggiacente, profondamente soggiacente, cioè qualcosa su cui anche la mia salute fisica poggia. Metterò una E, riguarda il mio piano emotivo. Ma dall'altra parte, sempre a sinistra sotto quella M, metterò una R. Che cosa sarà questa R? Questa R sta per retaggio, ovvero la nostra provenienza esperienziale. Tutta la nostra provenienza. Quella legata alla vocalità, sì, ma soprattutto quella legata alla nostra vita. Per cui avremo un piano di retaggio che sarà fatto di esperienze che vanno dalla nascita alla crescita, ai primi mesi di vita, fino ai primi anni di vita, fino all'approccio alle strutture, tipo l'asilo, piuttosto che la scuola primaria, poi la scuola secondaria, poi le scuole superiori, piuttosto che l'università. E quindi parliamo da un punto di vista dell'istruzione e della conoscenza. Ma allo stesso modo anche di tutto quello che è l'esperienza della vita, con i diversi tipi di relazione che sono esistenti o subentranti in ragione dell'età. Per cui le relazioni di tipo familiare, le relazioni di tipo amicale, le relazioni di tipo sentimentale di coppia e così via. Le relazioni di amicizia, eccetera. E anche le relazioni di tipo professionale, lavorativo, gli incontri che noi facciamo. Tutto questo genererà in noi una serie di esperienze. Ma andremo a riprendere questo discorso tra un momento. Torniamo ad un'osservazione globale dei quattro piani. Quindi abbiamo detto M, F e R. Cosa vuol dire? Partendo dalla nostra vocalità, ma con la possibilità di applicare questo sguardo a qualsiasi altra cosa della nostra esistenza, noi dovremmo considerare come ci sentiamo rispetto all'ideale possibile piena espressione di noi. Perché dico ideale? Perché spesso nemmeno noi conosciamo la nostra potenzialità espressiva realmente prima di averla vissuta. Ovviamente non è possibile. Pertanto spesso mi capita di chiedere alle persone, dico, ma se noi analizziamo la tua voce, prima ancora del tuo canto, cioè la tua voce, la tua voce, chiedo, piano F, fisicamente ti soddisfa? E la domanda è, sì, ma cosa significa? Significa quello che tu metti dentro la tua vocalità, lo ritrovi fisicamente, senti una padronanza della tua vocalità, senti un'instabilità, quindi questo piano lo consideri ad oggi in un ideale scatto istantaneo rispetto a un 100% ideale. Ti senti a zero, ti senti in un altro punto percentuale? Ritieni che sia migliorativo? Ritieni che sia stato migliorato? Allo stesso modo, poi chiederò, ma sul piano mentale la tua voce ti soddisfa? E la domanda spontaneamente sarà, sì, ma che cosa significa? Nuovamente, no? Significa rispetto al cognitivo, cioè alle nozioni che hai acquisito, ritrovi nella tua vocalità la funzionalità che dovresti possedere in ragione di quanto conosci? Da sommare, ovviamente, al piano fisico. E valgono le stesse risposte fatte precedentemente. No, mi sento di non conoscere abbastanza. No, non ho interiorizzato sufficientemente. Oppure, sì, ho interiorizzato ciò che ho conosciuto fino ad oggi, riesco a farne tesoro. Sento che la mia voce è arrivata al suo punto di massima espressione, sì, no, oppure migliorabile. Dal punto di vista emotivo va lo stesso discorso. La voce che esprimo mi realizza emotivamente? Mi dà la possibilità di esprimere ciò che io sento. Emozioni e motus, ciò che fa muovere. Quindi la mia voce mi fa muovere da un punto di vista emotivo e successivamente muove nell'ascoltatore qualcosa? Quindi, al di là delle facili illusioni, è impensabile che la nostra voce muova nell'ascoltatore qualcosa se prima non muove qualcosa in noi. Quindi, perché il canale è poi lo stesso, quello che arriva dall'ascoltatore è un feedback. Noi siamo il motore originante. Stesso discorso. Sì, in parte, no, mi sento bloccato. No, mi sento un po' meno bloccato rispetto a prima, però non mi sento ancora completamente libero. Eccolo qua. Questo è il termine. L'osservazione di tutti questi tre piani, mentale, fisico e emotivo, è misurabile in gradi di libertà. Gradi di libertà espressiva. Alla fine non esiste niente di più importante. Noi studiamo tecnica vocale per renderci maggiormente liberi dai blocchi che abbiamo, che possono essere di tipo mentale, di tipo fisico, di tipo emotivo. Perché, tendenzialmente, una voce nasce funzionale. A di là di soggettive patologie specifiche, tendenzialmente la maggior parte delle persone è in grado di utilizzare la voce in maniera naturale e funzionale. Se devo chiamare qualcuno lontano da me, alzerò la voce. Se devo parlare sottovoce perché un bimbo dorme o il mio gatto sta riposando, gli faccio una carezza e non voglio che si spaventi, allora parlerò sottovoce. Se no parlerò forte! Se ho bisogno che una platea mi ascolti, mi rivolgerò con un fare più! Di questo tipo, oppure se invece voglio portare una platea ad ascoltarmi in maniera più attenta, allora sceglierò un tono. Quindi la voce è funzionale. Ciò che non mi permette di vivere questa funzionalità abita nei diversi piani che abbiamo elencato ed è fissato mnemonicamente nella nostra RAM, che è il nostro retaggio. Sarà che la corrispondenza delle due R è abbastanza interessante. Quindi che cosa succede? Cosa si è generato? Allora, se io esprimo una vocalità, ho bisogno che questa vocalità sia libera. Se non è libera, che cosa la blocca? Possono esserci diversi tipi di blocco. Allora, tendenzialmente riguardiamo i piani. Può esserci un blocco dal punto di vista, parto dal semplice fisico, poi semplice per modo di dire, però dal punto di vista fisico. Cioè il mio corpo non funziona correttamente, non ho capito l'accordo pneumofonico, non riesco a mantenerlo, mi si apre involontariamente lo sfintere rinofaringe, perdo l'aria dal naso, non ho il controllo della lingua, l'adretto troppo, mi stringo, mi schiaccio, faccio delle cose. Quindi piano fisico. Piano mentale. Accidenti, piano mentale. Non mi sento capace. Ho un'idea di minus valore di me. Oppure allo stesso modo mi sopravvaluto. Mi sopravvaluto nella competenza cognitiva, quindi nozionistica. Penso di possedere una cosa quando realisticamente non la possiedo. Tutto questo concorre a sbilanciare, no? Quindi io magari ho un corpo particolarmente performante, però mi giudico. Non mi giudico capace. Oppure mi sopravvalito, mi giudico assolutamente capace, però il mio corpo in realtà non è allenato per fare le cose che sono richieste. Queste due situazioni ovviamente vanno a schiacciare la parte dell'emozione, la comunicazione emotiva. Perché se io non possiedo quelle, l'emozione... L'emozione ha bisogno di un campo libero per esprimersi. Un campo neutro. Un campo privo di giudizio, privo di sopravvalutazione. Un'emozione è ciò che è in quanto tale. Non è giusta o sbagliata. Io la provo. La provo. Può essere istantanea, momentanea, però io la provo. E quindi nel momento in cui la provo esiste. E nessuno deve dirmi che non può esistere. Nemmeno la mia mente. Che spesso è il nostro primo nemico. Perché mi dice che non esiste? Perché mi dice che è giudicabile? Perché non va? Perché sotto, sotto, soggiacente al nostro mentale, c'è il piano di retaggio. C'è la nostra provenienza esperienziale. Quindi se io ho tentato di esprimermi nel passato e mi sono state tarpate le ali, se io pensavo di aver fatto del mio meglio e poi qualcuno mi ha dato un rimando negativo. Aveva ragione? Boh, aveva le competenze per farlo. Chi lo sa? Spesso quando si è bambini e si vive la formazione ci si trova in tanti tipi di situazione. Allora auspicabile e sperabile sempre che i formatori, i docenti, i maestri, gli insegnanti, i professori siano delle persone risolte e equilibrate che sappiano limitarsi a favorire laddove è possibile l'apprendimento sostenerlo e non per contro a utilizzare la loro posizione per riversare le proprie frustrazioni e in quel modo schiacciare comunque l'espressione di un altro che sta cercando di fare del proprio meglio. Per esempio. Però potrebbero essere altre cose. Cioè io tento di esprimermi ma non riesco perché certi temi emotivi, temi relazionali, sentimentali, e tutto quanto sono inibiti dalle mie precedenti esperienze. Perché? Perché quando ho detto a qualcuno cosa provavo per lui mi ha reso in faccia, si è voltato da un'altra parte, mi ha ferito. No. Ok. Detto che poi le cose spesso ci feriscono in ragione della nostra inconsapevolezza perché noi non è che meritiamo l'esistenza se qualcuno ce la riconosce o meritiamo di essere amati se qualcuno ci ama. Purtroppo la nostra società spesso ci impone questo tipo di sguardo ma in realtà noi meritiamo di essere amati in quanto tali. Noi dobbiamo amarci in quanto tali. Successivamente noi portiamo un equilibrato amore verso noi stessi, cosa già difficilissima da raggiungere, già un'enormità, ma ammettiamo di riuscirci, incontreremo potenzialmente qualcuno che ci darà un feedback nella vita. E a quel punto misureremo la nostra capacità relazionale. Allo stesso modo la misureremo nella vocalità perché trattare determinati temi può riverberare in noi attraverso le esperienze precedenti. E così via potremmo dire per tutte le cose. E quindi poi ripeto, noi stiamo analizzando la vocalità ma potremmo analizzare la singola nota, l'acuto. Perché non riesco a cantare il sol tre o il la tre a voce piena? Perché non riesco a cantare il do quattro per le donne a voce piena? Perché? 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 Perché è un retaggio. Indipendentemente dal fatto io conosco persone che hanno studiato, alcune hanno studiato con me per un ventennio a fasi alterne, poi sono andato a studiare con altre, poi sono tornato. Queste persone... Però finché, e questo mi sento di dirlo con forza, finché non hanno preso in mano la propria vita o finché la vita non ha agito affinché loro si responsabilizzassero di un cambiamento, le criticità delle loro voci sono rimaste le stesse. Indipendentemente dalle nozioni acquisite, dalle esperienze fatte. Perché? Perché c'era un imprinting. Di questo stiamo parlando. L'imprinting di vita e di vocalità che noi abbiamo ce lo portiamo avanti fino a quando noi non cambiamo. Quindi un cantante che ha un blocco esperienziale, un blocco di retaggio, che riverbero sui piani emotivo, fisico, mentale, perché ha una forma, finché non cambia forma riprodurrà lo stesso effetto. Che significa cambiare forma? Eh, buon viaggio, buon viaggio a tutti. Nel senso che non ce n'è uno solo, assolutamente, che è un viaggio soggettivo, che potrebbe concretizzarsi in esperienze assolutamente diverse tra di esse. E... provateci. Se siete curiosi di risolvere delle cose, ecco anche questo è importante, che non si pensi, perché è erroneo pensare che qualcuno dall'esterno possa immettere in noi qualcosa. Piano. Nemmeno la conoscenza la può proporre. Siamo noi che decidiamo quanto assorbirla o quanto respingerla, perché le stesse nozioni date a dieci persone diverse ottengono risultati diversi. Quindi il dovere è anche di chi insegna di modularsi e di rimodularsi continuativamente sul soggetto. Perché il blocco di un metodo, il blocco accademico di un metodo, è esclusivo, cioè esclude, esclude. Non offre a tutti la stessa possibilità, perché sono delle matrici diverse. Quindi è fondamentale essere aperti ad un tipo di proposta che sape rimodularsi. Non riusciamo a realizzare un certo passaggio di una canzone in un modo, benissimo, cambiamo strada, guardiamolo da un'altra parte. Non riesco fisicamente, ok, guardiamolo emotivamente, guardiamolo mentalmente, o viceversa guardiamolo fisicamente. Mi sento giudicato, sì, ma pensa al tuo corpo. Respira, carica, agisci, usa la tua gestualità, usa la prorompenza del gesto del corpo e allora l'acuto verrà. Perché se io pretendo di fare l'acuto con una fisicità dimessa, cose già dette, ma ripetiamole. E perché è dimessa? Perché mi sento sbagliato, mi sento giudicabile quando devo cantare, perché ho le spalle attaccate al collo così, perché se appena appena da piccolo provavo a muovermi, mi sgridavano, oppure perché quando ho provato a fare qualcosa e gli altri ridevano di me. Ecco, se non mi sgancio da tutta quella robaccia, e ovviamente non è facile farlo, la mia vocalità ha dei vincoli che poi riverberano su ognuno degli altri piani. Spero questo discorso vi possa essere utile, almeno come spunto, poi ognuno di noi produca in sé le risposte se riesci a trovarne, oppure le domande, meglio ancora le domande. Uno si fa le domande e dico, ok, ma a me cosa succede? Per esempio, facciamo un gioco, mi piacerebbe che poi qualcuno di voi mi rispondesse, no? Se vedrete questo video vuol dire che avete un canale YouTube, perfetto. Fatevi un video, fatevi un video col telefonino, qualcosa di molto semplice, chi è più attrezzato faccia pure in altro modo, chi non è attrezzato faccia con uno smartphone, ne abbiamo tutti. benissimo, fate un video in cui cantate, e poi linkatelo, linkatelo sotto questo video, dove è possibile scrivere, no? Scrivete un messaggio, scrivete un messaggio che contenga quello che volete in termini di parole, ma ha il link del vostro video, che sarà probabilmente posizionato su vostro canale YouTube. E già questa è una sfida enorme, perché c'è chi si vergogna, c'è chi non se la sente, chi ha paura di... però è un grande passaggio. Fate questa esperienza, sceglietevi un brano, ne basta un minuto e mezzo, due minuti, la prima strofa, le prime due strofe e un ritornello, oppure se volete farlo integralmente, fatelo integralmente. E provate a fare questo passaggio. Include un'autoosservazione pazzesca, perché vi guarderete, vi ascolterete, penserete giusto o sbagliato, cosa diranno gli altri, cosa faranno. Quindi vi renderete conto di che cosa funziona da un punto di vista mentale, fisico, emotivo e che incidenza ha il vostro retaggio e il retaggio sociale che è connesso a quello nostro personale. Mi aspetto di trovare dei video, mi farebbe molto piacere, sarò attento nel commentarli, pubblicamente se vorrete o privatamente se preferite, per fare questo tipo di esperienza. Vi invito peraltro a visitare il sito della scuola, iltempiodellavoce.com, dove potete trovare i percorsi Diploma Academy che conducono alla certificazione internazionale con il Trinity London College, oppure i percorsi Open di studio, oppure ancora i videocorsi livello 1, livello 2 per tutte le categorie vocali, voci maschili e voci femminili, livello 3 in arrivo a breve termine. Inoltre c'è la possibilità di studiare anche con altri docenti, alcuni insegnanti di canto, ma anche insegnanti di altri strumenti che da due anni ormai collaborano con la nostra struttura, il Tempio della Voce. Chi fosse interessato a un percorso personalizzato può scrivere all'email info-morenodelsignore.com oppure all'email iltempiodellavoce-gmail.com. Allora mi raccomando, considerate i quattro piani della vocalità e vedete un po' dove siete posizionati rispetto ad essi. Un caro abbraccio, a presto, buona giornata.